Negli ultimi periodi si è ventilata l'ipotesi di una chiusura anticipata alle ore 22 o alle ore 23. Ovviamente subito si stavano mossi come ConfCommercio e come Fipe, che è la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, per impedire questa misura a livello nazionale e locale, con una campagna nazionale che diceva no chiusure, sì controlli. Perché? Perché il mondo della ristorazione, come quello dei bar, pub, ristoranti o pubblici esercizi, è già vessato da una presente crisi economica. Tanto che da un'indagine nazionale il 64% delle persone non ha possibilità o intenzione di andare a cena fuori. Perché? Perché appunto usciamo da un periodo di lockdown, usciamo da un periodo di cassa integrazioni comunque sia molto pesante e quindi le famiglie hanno meno capacità di spesa e da una stagione che, seppur partita poi luglio-agosto in maniera abbastanza importante, non ha colmato le perdite dei mesi di maggio con le cerimonie magari, comunioni, cresime, matrimoni. Quindi non possiamo continuare a vessare un settore che è già di per sé in crisi. Inoltre i nostri ristoratori, dopo il lockdown, hanno potuto riaprire i loro locali. Ma come? Applicando tutti i protocolli di sicurezza del caso. Quindi vuol dire mettere in sicurezza il ristorante, tutta la struttura e i propri dipendenti e se stessi, per infondere anche nuova fiducia ai clienti che dovevano poi rientrare dopo due mesi a casa in un locale che doveva garantire appunto la massima igienizzazione, la massima sicurezza. Quindi questo cosa vuol dire? Investire di spese proprie, investire di tasca propria, senza la garanzia che questo ritorno economico, questo investimento fosse poi dopo ovviamente coperto. Quindi hanno fatto uno sforzo enorme per dare nuova fiducia anche alle persone, ovviamente che potevano entrare nel locale, dare una nuova spinta al turismo che poi ha permesso questa stagione nel luglio ed agosto. Il mondo della ristorazione, come quello dei pubblici esercizi in genere, è veramente un mondo straordinario. È un mondo che non conosce ferie, è un mondo che non conosce festività, perché loro praticamente lavorano sempre. Ed è fondamentale per il benessere della persona, perché è piacevolissimo andare a cena fuori e poter godere di questa cena, quindi non mangiare di fretta perché alle 22 o 23 chiuderanno poi i ristoranti, i pub o i locali. Ed è un mondo che è fondamentale per la tenuta sociale. Pensiamo tipo ai borghi, alle piccole città, ai nostri paesi, che sono delle perle ovviamente, culturali, storiche, di una bellezza incredibile. E il vero presidio sociale di quei territori è proprio la ristorazione, il mondo dei pubblici esercizi. Inoltre, chiudere alle 22 e alle 23, l'ipotesi che si era ventilata e che ora sembra che ci sia una sorta di dietro front, non aiuterebbe nemmeno per quanto riguarda la prevenzione sanitaria, che per noi ovviamente è fondamentale, dal primo posto. Perché? Perché la gente, i ragazzi, si riverserebbero nei marciapiedi, comunque sia nelle strade, senza alcun tipo di prevenzione. Quella prevenzione che appunto invece i ristoratori possono garantire. E quindi noi siamo contrarissimi a questa chiusura anticipata, ma siamo molto favorevoli ai controlli, perché bisogna far sì che tutti i protocolli vengano rispettati, che tutti i ristoratori e pubblici esercizi li applicano e che quindi ci siano poi dei controlli e delle sanzioni per coloro che non rispettano questi protocolli. Perché come ci dicevano alcuni nostri ristoratori, ci sono anche ristoranti, datori di lavoro, che non rispettano questi protocolli di sicurezza e a causa loro viene meno magari la fiducia verso tutti coloro che invece rispettano in maniera integerima questi protocolli.